un gran sole scaglia sulla campagna da un mese la sua fiamma rovente sotto questa pioggia di fuoco la vita si sviluppa magnificamente a perdita d'occhio la terra è verdeggiante il cielo è azzurro siluò ai confini dell'orizzonte le fattorie della Normandia sparpagliate nella pianura viste in lontananza sembrano macchie orlate da una cintura di faggi slanciati da vicino se s'apre il vecchio cancello pare di vedere un vastissimo giardino poiché tutti i vecchi meli simili a vecchi contadini dalle ossa contorte allineati intorno all'aia aprono verso il cielo le loro bellissime cupole bianche e rosa il profumo dolciastro della fioritura si mescola gli odori grassi delle stalle aperte e coi vapori dell'etame che fermenta coperto di polli è mezzodì la famiglia sta mangiando all'ombra del pero piantato davanti alla porta sono padre e madre quattro figli piccoli due serve e tre garzoni non parla nessuno mangiano la zuppa poi viene tolto il coperchio al tegame pieno di patate collardo di tanto in tanto si alza una serva e va in dispensa a riempire il boccale del sidro il padre uno maccione sulla quarantina sta osservando una vite spoglia che corre ritorta simile a un serpente contro il muro della casa sotto le persiane per tutta la lunghezza della parete alla fine dice la vite di papà quest'anno ha buttato presto e forse farà l'uva pure le moglie si volta e guarda ma lei non dice niente la vita è stata piantata proprio nel posto in cui il padre era stato fucilato è accaduto durante la guerra del 1870 i prussiani occupavano tutta la regione il generale feinherbe li fronteggiava con l'ala settentrionale dell'esercito lo stato maggiore prussiano si era insediato nella fattoria compare milon il proprietario li aveva accolti e ospitati come meglio poteva l'avanguardia tedesca stava in osservazione in quel villaggio da un mese i francesi a dieci chilometri non si muovevano ma ogni notte spariva qualche ulano tutti gli esploratori isolati quelli mandati in pattuglia quando andavano soltanto in due o tre non facevano mai ritorno li trovavano morti la mattina dopo in un campo sul margine di un'aia o in un fossato anche i cavalli venivano trovati lungo la strada sgozzati da una sciabolata quei delitti sembravano essere stati compiuti dalle stesse persone che non si riuscivano a scoprire il paese era in prada al terrore furono fucilati alcuni contadini dietro a una semplice denuncia furono messe in prigione delle donne e si cercò di far parlare i bambini non trapelò nulla una mattina compare milon fu trovato disteso nella stalla col volto sfregiato da una sciabolata a tre chilometri di distanza vennero scoperti due ulani col ventre sguarciato uno di loro aveva ancora in pugno l'arma insanguinata con cui si era battuto e difeso fu indetto immediatamente un consiglio di guerra all'aperto davanti alla fattoria il vecchio vi fu condotto aveva sessantotto anni piccolo di statura magro leggermente sbilenco con delle grandi mani che parevano pinze di granchio attraverso i capelli opachi radi e sfibrati come la peluria di un anatroccolo si vedeva la pelle del cranio sulla pelle abbronzata e rugosa del collo grosse vene si collegavano alle macelle e ricomparivano verso le tempie in paese era stimato avaro ed esperto nel fare affari lo misero in piedi circondato da quattro soldati davanti al tavolone di cucina portato all'esterno gli si sedettero di fronte cinque ufficiali e il colonnello il colonnello cominciò a parlare in francese compare Milon da quando siamo qui di voi possiamo dire soltanto buone cose con noi siete sempre stato gentile e persino premuroso ma oggi su voi pesa un'accusa tremenda che deve essere chiarita in che modo avete potuto ferirvi così sulla faccia il contadino non rispose compare Milon il contadino non rispose allora il colonnello disse il silenzio è una condanna per voi Milon dovete rispondermi avete capito? sapete che ha ucciso i due ulani trovati stamattina vicino al crocefisso? il vecchio disse chiaramente sono stato io sorpreso il colonnello tacque per qualche attimo guardando negli occhi il prigioniero compare Milon rimase impassibile con l'aria serena e ingenua del contadino gli occhi bassi come se stesse parlando col parroco una cosa sola indicava il suo turbamento interiore ingoiava di continuo la saliva con uno sforzo evidente come se avesse la gola chiusa la famiglia del vecchio il figlio Jean la nuora e i due bambini erano fermi a dieci passi sgomenti e affranti il colonnello riprese a parlare sapete che ha ucciso gli esploratori del nostro reggimento mentre erano andati in avanscoperta come ogni mattina? il vecchio rispose sempre con l'impassibilità di un animale sono stato io li avete uccisi tutti voi? tutti io, sì da solo? io, da solo ditemi, in che modo avete fatto? questa volta l'uomo sembrò turbarsi era evidentemente imbarazzato dalla necessità di parlare a lungo morborò che ne so ho fatto come capitava il colonnello insistette devo avvertirvi che è necessario dirmi tutto fareste bene a prendere subito questa decisione come avete cominciato? l'uomo lanciò un'occhiata alla sua famiglia dietro di lui intenta ad ascoltarlo esitò ancora poi si decise all'improvviso una sera saranno state le dieci stavo tornando a casa era il giorno dopo il vostro arrivo voi e i vostri soldati mi avete sequestrato più di cinquanta scudi di fieno e in più una vacca e due pecore ho pensato se mi pigliano altri venti scudi gliela faccio pagare e poi avevo sullo stomaco qualche altra cosa che vi dirò vedo uno dei vostri soldati che stava fumando la pipa seduto su un fosso dietro il granaio e allora sono andato a staccare la false e gli sono arrivato dietro pian piano lui non si è accorto di niente gli ho tagliato la testa con un colpo solo come fosse stata una spiga non ha fatto nemmeno a se volete potete cercarlo in fondo allo stagno e dentro un sacco da carbone con una pietra al collo avevo un piano e così ho preso tutta la sua roba dagli stivali al berretto e li ho nascosti nella fornace da gesso del bosco di Martin dietro il cortile tacque gli ufficiali si guardavano stupefatti poi l'interrogatorio ricominciò ed ecco quel che vennero a sapere dopo aver compiuto il primo delitto il vecchio aveva vissuto con questo pensiero fisso devo ammazzare i prussiani li odiava in una maniera feroza e sorniona da contadino avido e anche da patriota aveva un piano come diceva aspettò qualche giorno era libero di andare e venire di entrare ed uscire come voleva sino a tal punto che si era mostrato umile verso i vincitori sottomesso e compiacente ogni sera vedeva partire gli esploratori una notte uscì avendo sentito anche il nome del paese in cui si sarebbero diretti gli ulani vivendo assieme ai soldati aveva imparato le poche parole della loro lingua che servivano alla realizzazione del suo piano uscì dalla parte del cortile si inoltrò nel bosco arrivò al forno da gesso penetrò nella lunga galleria e in fondo ritrovò per terra la divisa del morto la indossò si mise a girare per i campi strisciando nascondendosi nelle scarpate attento ai minimi rumori trassalendo come un cacciatore di frodo quando credette che fosse arrivata l'ora giusta si avvicinò alla strada e si nascose dietro un folto cespuglio aspettò ancora finalmente verso mezzanotte sentì risuonare il galoppo di un cavallo il vecchio appoggiò l'orecchia a terra per essere certo che si stesse avvicinando un cavaliere solo poi si preparò l'ulano avanzava di buon trotto recando dai dispacci cavalcava facendo attenzione a quel che vedeva e udiva quando fu a dieci passi compare milon si trascinò sulla strada gemeva hilfe hilfe aiuto aiuto il soldato si fermò riconobbe un tedesco disarcionato gli sembrò che fosse ferito scese da cavallo si avvicinò a lui senza sospetti e mentre stava per chinarsi sullo sconosciuto ricevette la lunga lama curva della sciabola in pieno ventre cadde senza agonia appena scosso dagli ultimi brividi allora il normanno esultante nella sua gioia silenziosa di vecchio contadino si alzò e per il gusto di uccidere sgozzò il cadavere poi lo trascinò sino al fossato e lo buttò lì dentro il cavallo aspettava tranquillamente l'ulano compare milon salì in sella e partì al galoppo nella campagna dopo un'ora vide altri due ulani che stavano rientrando affiancati al comando di reggimento andò direttamente verso di loro sempre gridando hilfe hilfe i prussiani riconobbero la divisa e lo lasciarono venire avanti senza diffidare di lui il vecchio passò tra loro come un proiettile abbattendole uno con la sciabola e l'altro con la pistola poi sgozzò anche i cavalli erano tedeschi tornò con cautela nel forno da gesso e nascose il cavallo in fondo alla galleria buia lasciò la divisa rindossò i suoi stracci e se ne tornò a letto dove dormì sino a mattino fatto per quattro giorni aspettando la fine dell'inchiesta non uscì di casa il quinto giorno ripartì e ammazzò altri due soldati usando lo stesso stratagemma da allora non si fermò più ogni notte andava in giro errava a caso uccideva un prussiano qui e uno là andava al galoppo nella campagna deserta sotto la luna urano disperso e cacciatore di uomini terminata l'opera lasciando stesi sulle strade i cadaveri il vecchio cavaliere tornava a nascondere nel fondo del forno da gesso sia il cavallo che la divisa verso mezzogiorno andava a portare con regolarità avena e acqua alla sua cavalcatura in fondo al sotterraneo e la nutriva abbondantemente dato che le chiedeva molto lavoro ma la notte precedente uno di coloro che aveva assalito si era insospettito e aveva tagliata la faccia con una sciabolata al vecchio contadino ad ogni modo era riuscita ad ucciderli tutti e due poi aveva fatto ritorno aveva nascosto il cavallo e si era rimesso i suoi umili abiti ma vinto dalla debolezza aveva potuto trascinarsi solo fino alla stalla senza riuscire ad arrivare in casa l'avevano ritrovato tutto sanguinante sulla paglia appena ebbe finito il racconto alzò di scatto la testa e guardò con fierezza gli ufficiali brussiani il colonnello aggiustandosi i baffi gli domandò avete altro da dire? no nient'altro il conto torna ne ho fatti fuori sedici né uno di più né uno di meno vi rendete conto che sarete condannato a morte? non ho chiesto grazia avete fatto il soldato? sì ho fatto anche la guerra e dopo avete ammazzato mio padre che era soldato col primo imperatore e il mese scorso mi avete ammazzato François il mio figlio minore nei pressi di Evrò con me avevate un debito e adesso siamo pari gli ufficiali si guardavano tra loro il vecchio continuò otto per mio padre otto per mio figlio il conto è pari non sono stato certo io a cominciare non vi conosco neppure so sì e no da dove venite voi siete a casa mia e comandate come se foste a casa vostra mi sono vendicato su quegli altri e non sono pentito raddrizzò la schiena storta e incrociò le braccia in una posa da umile eroe i prussiani parlottarono per parecchio tempo un capitano che aveva perduto il figlio il mese prima aveva preso la difesa di quel poveraccio dal grande animo il colonnello si alzò e avvicinandosi a Milon gli disse a voce bassa ascoltate vecchio forse c'è il modo di salvarvi la vita ma il vecchio non lo ascoltava nemmeno e con gli occhi fissi in quelli del vincitore mentre il vento gli agitava la peluria sulla testa fece una smorfia orribile che gli raggrinzò la faccia asciutta e sfregiata dal colpo di sciabola confiò il petto e sputò con tutta la sua forza sul viso del prussiano fuori di sé il colonnello alzò la mano mentre l'uomo gli sputava in faccia una seconda volta gli altri ufficiali si erano alzati in piedi e urlavano degli ordini tutti insieme in meno di un minuto il vecchio sempre impassibile fu portato al muro e fucilato mentre sorrideva il figlio maggiore Jeanne alla nuora e ai due bambini che guardavano atterriti a che guardavano a 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 Grazie a tutti